ma buonasera amici crociati buonasera e ben ritrovati un nuovo appuntamento di parma game pass per guardare insieme parma cremonese a la maglia del parma sonia i colori e questa è la maglia del parma è una crociata adesso mi cambio va bene va bene rocciatone occhio il gol del cremonese occhio la cremonese rete fagioli fagioli gioventino iniziamo bene iniziamo bene avevano detto che erano bravi proprio fagioli riuscito a segnare ma che cabbo fai valeri contro manna è in aria attenzione il cross teso il tiro un'altra rete vabbè ragazzi c'è calza palla che passa lì davanti all'aria chi è quello lì cioè ragazzi ma seriamente ma seriamente da sul rimpallo in aria lui si è trovato ma poi tra l'altro si è trovato lì da solo da solo perché però qui c'è andrea metti la canzone non ci sono nanna dai clamoroso mi ha fatto fare tutto quello che voleva perché era da solo quello lì in aria nessuno l'ha seguito una marea di errori a partire dall'inizio della dell'azione man che dorme e non fa la copertura poi il cross che stiamo lì a guardare vasquez stesso che alla base già passeggia in aria però lì non è tanto colpa di vasquez danilo non ho capito cosa stesse facendo c'era solo l'ha perso l'inquadratura da dietro la porta si vede vasquez che sta proprio passeggiando capisci che è troppo un rischio se fai così molle ancora a sinistra il lacremonese cross dentro la crema nel mezzo ora loro bloccalo è rigore rigore ragazzi però sveglia ma no non è fa gioia è ignesta è ignesta è ignesta fa quello che vuole non ci credo a quello che gli che fenomeno è il miglior della storia dai cavolo però adesso se non ci svegliamo ragazzi ma meno male che l'attaccante qui si è addormentato perché qui dopo il calcio di rigore ha avuto un momento di sonnolenza e scattarella due minuti che non si gioca sì sì sono lì in aria che parlano ma ha iniziato lui non mi interessa adesso la finisco stanno provando a vedere al var se è entrato prima ma no dai cattarella con l'arbitro sembra che non voglio presento fuori mi presento fuori il tardini mi presento fuori il tardini se vado a valutare una roba del genere no vabbè clamoroso ragazzi ragazzi questo è assurdo no ragazzi no questa è clamorosa cos'è adesso però mi sta attento a tutti i giocatori che non entrano prima la ribatti fino al novantesimo se fai così se fai così la ribatti fino al novantesimo lo conosci lo conosci guarda se esiste se esiste un dio del calcio ma guarda che quando batte rigore c'è già gente di attenti che fai la ribattere o fagliela ribattere ancora me la fai ribattere arbitro io vorrei vedere un altro giusto possiamo rivederla ancora la rifacciamo un'altra volta no dai questa cosa io non l'ho mai vista è una cosa così c'è jacobino zagaitis busi valenti e colombi attenzione attenzione al palo davanti ho capito la glabiglia mi hai la palla mi hai la sì sì mamma mia se l'ha fatta a fare odiraggino odiraggino lo stilista mi hai la bello questo 1 2 è qua è stato molto intelligente la giocata inglese e ragazzi è la giocata che chiamavamo due minuti fa ancora palla dai pallo ammunizione questa è la seconda munizione no fa giocare non ci credo fa giocare non ci credo no ragazzi è tardissimo ma stiamo scherzando adesso voglio rivederla perché quella è la seconda munizione adesso mi chiami il VAR allora per questa cosa perché visto che lo tiremo fuori perché quando no perché l'ha giudicato l'arbitro sul momento hai ragione però no vabbè però è da cartellino perché era contropiede netto stavano ripartendo gioli fagioli espulso no no del parma chi è espulso del parma no secondo me è il display che sta facendo un po di sono una panchina del parma c'è una mezza issa da me situazione è concitata in questo momento attenzione la grafica di elbis da un'espulsione per il parma che io sinceramente non ho capito probabilmente sono sbagliati loro uno della panchina uno della panchina del parma la panchina può buttare fuori chi vuole mi interessa il campo sinceramente e qua perde il tempo ah vasquez vasquez mi sa perché praticamente eh sì è espulso no l'ha munito vasquez e poi la doppia munizione già è rosso l'ha espulso l'ha espulso vasquez incredibile perché qui l'ha perso tempo ha fatto finta di dargli il pallone lui si è arrabbiato gli ha tirato la pallonata sulla panchina e poi pecchia è andato a strigliargli l'orecchio quello si è arrabbiato ancora in più gli ha espulso ha espulso anche pecchia ma il problema è che noi abbiamo perso un giocatore in campo ragazzi qui vasquez troppo nervoso però nella sua esperienza reagire così cavolo non ho parole ragazzi no è stato un gesto assurdo questo qua ma non ho parole vasquez che cosa fai ma cosa fai reazione del mudo perché non ho veramente parole per una reazione del genere ma poi la partita ti stava anche cominciando a girare bravo fosse due a zero ma era già stato munito ah no gli ha dato due munizioni praticamente insieme una dopo l'altra tre secondi ma no ma assurda infatti ma la seconda è dopo che ormai si era calmato ma cosa vuoi dire se ne stava andando per la sua strada sì sì l'ha munito due volte in tre secondi perché la seconda munizione ragazzi quest'arbitro però posso dire che non ha dato il protagonista al tardini dai hai dato al tardini per fare il protagonista ma no no la vasquez ha sbagliato completamente però ammonire due o lo ammonisci una volta non puoi ammonirlo per la stessa azione scusami no si può fare si può fare perché ha commesso due robe diverse sicuramente lui l'ha munito e gli ha detto qualcosa loro hanno il coltello della parte del manico state essere maturo per ribaltare la situazione tanto lo sai adesso chi sta entrando questo è il cattivo di karate kid chi è che sta in casa oddio è vero è lui giustamente la partita comincia a essere tesa buttano dentro come cavolo si chiama cobra kai cobra kai mamma mia il cattivo di karate maresca buttami dentro daniel san johnny lawrence johnny lawrence miaila cosa sta facendo miaila mamma mia a miaila che ha tentato un'azione personale dato sul fondo poi si è accentrato con una serie di dribbling infinita ha tentato un tiragiro che non ha avuto fortuna ma mamma mia come sta crescendo miaila mi ha saltati tre così ma donna cazzione se non si fa buttare fuori potrebbe essere anche che segni sembrava uomini e donne ragazzi che sfilata dello stilista mamma mia pazzesco ragazzi più cambio da parte della cremonese nel frattempo entra johnny lawrence e probabilmente un altro del cobra kai ma è incredibile ragazzi no perché noi non ce l'abbiamo ralph macho dov'è dov'è tiratemelo fuori ma si che c'è è brunetta è brunetta ma vabbè più o meno brunetta e daniel san metti la cera togli la cera cazzato nero è uguale johnny lawrence in campo per la cremonese attenzione è partita ragazzi è partita stiamo vedendo cioè questa comunque vabbè finirà come dovrà finire avremo 72 espulsi ma vedere karate kid in parma cremonese veramente grazie ma che identico che lavoroso è bellissimo che identico grazie ti ho sbagliato sport è bellissimo proprio il fatto che stessimo andando in rissa ha messo di stasera è facile è quello che sto pensando fai salire anche Buffon tutti su a questo punto è l'ultima chance brunetta la punizione ma tutti dentro pennellata lungo un po' di testa stop a inglese un po' di testa un po' di testa un po' di testa in due è un tirato lì con il cross dentro cioè va bene finisce qua chissà che finisce qua finita è finita un po' di testa